Il presidente provinciale del Lanci di Agrigento, Carmelo Salamone, replica a Santo Cutrone. Da tempo denunciamo le sotture del decreto semplificazioni, ma regna il silenzio. Prendiamo atto, afferma Carmelo Salamone, delle dichiarazioni del presidente regionale del Lanci Sicilia, Santo Cutrone, sul rischio che i colossi delle costruzioni vogliono mettere le mani su ogni centesimo che arriverà dall'Unione Europea, relegando le imprese locali al ruolo di subabbaltatori a vita. La posizione è certamente condivisibile, continua Salamone. Già a suo tempo avevamo denunciato il rischio che il recovery plan tagliasse fuori le piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale del nostro territorio. Crediamo, continua Salamone, tuttavia, che il supporto della politica e della presidenza regionale del Lanci non possa concludersi qui. Anzi, oseremo dire che se ci limitasse a questo sarebbe una sconfitta e rischierebbe di passare per una mera operazione comunicativa. Da tempo, infatti, denunciamo come le piccole e medie aziende siano a rischio di chiusura a causa di una generalizzata inefficienza della pubblica amministrazione, di una totale disattenzione da parte della politica nazionale e regionale e di provvedimenti come il decreto semplificazioni, che hanno rappresentato il colpo di grazia in un settore già in crisi, riducendo trasparenza e quindi la legalità, appelli che finora sono sempre caduti nel vuoto. Solo guardando anche a questi temi, conclude il presidente del Lanci di Agrigento, Carmelo Salamone, si tutelerebbero in modo concreto gli interessi di tutti gli imprenditori del comparto e restituirebbero diritti e speranza a tanti imprenditori del settore.